Oggi è mercoledì, allenamenti dei più piccoli, la scuola calcio di Castelfrentano, c'è mister Camillo di Piase, a quest'altra parte c'è Giovanni di Giulio, sono i piccolini dei primi calci. Esercizi con il pallone, sotto gli ordini di mister Camillo, piccolini, in punta di piedi, e non tornare indietro, come l'attiva, controlla, una volta sola, da me, ecco sono tre file di ragazzini, Leo, palla a terra, controllo e passaggio, controllo e passaggio, scusa, 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 allora, questi che stavano di qua vanno in mezzo, ok, quelli che stavano in mezzo vengono di qua, ecco si scambiano le file, ecco questa è la fila dei piccolini che c'è nel pallone, se lo ripassano con i compagni di fronte, e viceversa anche la fila ultima, riprenderanno la palla che passeranno i compagni della fila centrale. non soppella palla a loro, e sopra, gira, alza la testa, attira l'ata, vedere lì, si muove bene, si muove bene, su, 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 tranquillo, non mi preoccupare, dobbiamo imparare, comunque avremo le partite, bisogna fare il passaggio fatto bene, se no il compagno come fa ad andare a calciare e a fare le cose, dai, dai, dai che ci dobbiamo divertire ragazzi, su, se facciamo le cose belle adesso, durante la partita ci divertiamo. Questi sono esercizi per un corretto possesso di palla, per far sì che nelle loro esibizioni e fatturiranno dei passaggi corretti e precisi. Dai, uno e due, uno e due, uno e due, uno, Nicola non la devi aspettare a passare, lei ci deve andare incontro, guarda qua.